al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di problemi tipo l'indebolimento della vista la vista ti sta calando oppure stai vedendo doppie immagini oppure ti sta avvicinando la cecità stai ti stai convincendo che non stai più vedendo bene che stai vedendo quasi quasi sta diventando cieco bene se tu sei andato dai medici ha visto che non ha organicamente nulla di rotto che tutto funziona però continua questa convinzione che la tua vista si sta indebolendo sta diventando sempre più debole che vedi che stoppiato e che sta diventando ciego quindi le tue convinzioni che purtroppo se continui così prima o poi diventano realtà beh utilizza l'ipnosi vera e professionale e tu eliminerai tutte queste convinzioni negative perché convincerà il tuo subcosciente a cambiare canale a cambiare immagine non devi credere devi soltanto fare non è ne religione politica l'ipnosi per cui vai tranquillo ti può sedere presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona pure se non hai voglia di girare cappelle può iniziare a utilizzare l'auto ipnosi l'ipnosi che ti fai da solo nella tua stanzetta magari con la tua voce eccetera eccetera scrivimi un'e-mail ai più non ragia sociali che oggi la libro punti t io ti risponderò gratis gratis compatibilmente con i miei impegni e i miei tempi perché sono spesso all'estero e poi seguimi sulla mia fan page ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino ha visto dal mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino faccia il condividi con amici parenti che hanno questo problema perché può essere quel quindi che gli cambia la vita ricorda gli procedisce sulla mente sul corpo sul visibile visibile quindi molti miei clienti possiamo dire così persone aiutate in italia all'estero ti posso garantire che sono parecchie mi hanno sempre detto dottor ha risolto il mio problema ma contemporaneamente migliorato il mio rapporto sessuale il mio rapporto con mio marito mia moglie miei figli il mio lavoro i miei colleghi bla 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 oppure è sparito quel dolore cronico al braccio destro eppure abbiamo fatto magari soltanto eliminare il fumo l'alcol o la droga quindi la mente così potente che neanche tu puoi immaginare ok visita i miei profili instagram e twitter e al prossimo video il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio